Presidente Mario Sacco, gli obiettivi per i prossimi quattro anni? Gli obiettivi? A me è stato dato un compito di seguire l'intersettorialità perché è un momento importantissimo in cui come Conf Cooperative dobbiamo fare squadra per lavorare sulla filiera della salute e del welfare per la costruzione di un progetto in cui siano partecipi tutte le realtà cooperative che gravitano nel settore della sanità. Questo perché facendo un esempio a mio caro del Piemonte il 25% delle strutture dei presidi sociosanitari sono gestite da cooperative sociali, quindi un quarto. Su questo si può creare una rete di riferimento sul territorio che dia quei servizi di assistenza primaria e domiciliare che sono alla base dell'impegno di Conf Cooperative Sanità per il prossimo quadriennio, vale a dire di avere un rapporto pubblico e privato che consenta al pubblico di uscire da un'incapacità di investimento e il privato di poter partecipare alla costruzione di questo nuovo welfare.